Scrivo queste note in una morsa d'angoscia e so che al termine della notte sarò finito senza un soldo, senza la droga che rende sopportabile la mia esistenza. Non posso reggere oltre la tortura. Mi butterò dalla finestra di questa soffitta. Ma la mia dedizione alla morfina non deve farvi pensare che sia un debole o un degenerato. Quando leggerete queste pagine intuirete, anche se non riuscirete a comprendere del tutto, perché non mi restino che l'oblio o la morte. Fu in una di quelle zone più aperte e meno frequentate del Pacifico che il piroscafo di cui ero sovraintendente cadde vittima dell'incrociatore tedesco. La grande guerra era all'inizio e le forze navali del nemico non avevano ancora ceduto completamente, come poi sarebbe avvenuto. La nostra nave venne catturata e noi dell'equipaggio fummo trattati con il rispetto e la considerazione dovuti ai prigionieri di guerra. Anzi, la disciplina dei nostri catturatori era così blanda che dopo cinque giorni riuscì a fuggire da solo in barca, con acqua e provviste per diverso tempo. Finalmente libero e alla deriva, non avevo alcuna idea delle acque in cui mi trovavo. Non sono mai stato un provetto navigatore e dalla posizione del sole e delle stelle potrei solo concludere che ero a sud dell'equatore. Ignoravo completamente la longitudine e non erano in vista né isole né traccia di coste. Il tempo si manteneva buono e per innumerevoli giorni avanzai senza meta sotto il sole feroce, aspettando di scorgere una nave o di essere scagliato sulle sponde di una terra abitabile. Non si vedevano né navi né terra e nell'immensa solitudine del mare e del cielo cominciai a disperare. Poi, mentre dormivo, avvenne il cambiamento. Non ne conoscerò mai particolari perché non mi svegliai dal mio sonno agitato e fitto di sogni. Quando riaprì gli occhi scoprì di essere mezzo sprofondato in una massa disgustosa di fango nero che si stendeva intorno a me a perdita d'occhio e in cui la mia barca si era arenata a qualche metro di distanza. È logico supporre che davanti a una così radicale modificazione del paesaggio la meraviglia fosse il mio stato d'animo predominante, ma in realtà ero più atterrito che sorpreso perché in quell'aria e in quel fango putrescente c'era una qualità sinistra che metteva l'anima a dura prova. La regione pullulava di carcasse di pesci marciti e di cose meno facilmente descrivibili che spuntavano un po' dovunque dal fango dell'interminabile pianura. Ma è assurdo sperare di trasmettere a parole l'orrore che gravava su quel deserto di assoluto silenzio e sconfinata vastità. Non si sentiva e non si vedeva nulla, a parte l'immensa distesa di fango nero e proprio la totale immobilità e omogeneità del paesaggio mi davano un senso di paura schiacciante. Il sole bruciava da un cielo in cui non c'era traccia di nuvole e che sembrava nero come se riflettesse la palude colore inchiostro che si stendeva ai miei piedi. Mentre strisciavo verso la barca in secca riflettei che una sola teoria poteva spiegare la mia situazione. In seguito a un fenomeno vulcanico di inaudite proporzioni una parte del fondo oceanico doveva essere venuta a galla esponendo regioni che per milioni d'anni erano rimaste coperte da incalcolabili quantità d'acqua. L'estensione della nuova regione era tale che per quanto tendessi le orecchie non sentivo nemmeno in lontananza il rumore dell'oceano e non c'erano gabbiani a banchettare sui resti di pesce. Per diverse ore rimasi nella barca a pensare o rimuginare. Inclinata su un fianco com'era col passare del tempo cominciò ad offrirmi un po' d'ombra. Il suolo sotto di me sembrò perdere una parte della sua mollezza e si asciugò quel tanto che bastava a coprire brevi tragitti a piedi. Quella notte dormii poco e il giorno seguente fece un pacco che conteneva cibo e acqua che avrai portato con me in un viaggio d'esplorazione alla ricerca dell'oceano scomparso ed eventuali soccorsi. Il terzo giorno il suolo si era asciugato abbastanza per camminarci con facilità. L'odore di pesce era insopportabile ma io, oppresso da pensieri molto più gravi, non mi preoccupai di un male così trascurabile e mi incamminai coraggiosamente verso una meta sconosciuta. Per tutto il giorno avanzai regolarmente verso ovest, usando come punto di riferimento un'altura che si ergeva più di qualsiasi altro oggetto sul deserto ondulato. Di notte feci un piccolo campo e il giorno dopo ripresi ad avanzare verso l'altura che non sembrava più vicina della prima volta che l'avevo vista. La quarta sera arrivai alla base dell'elevazione, molto più alta di quanto apparisse in lontananza. Una valle la separava dal resto della pianura, dandole ancora maggior risalto. Troppo stanco per tentare un'ascesa, mi addormentai ai suoi piedi. Non so perché i miei sogni quella notte fossero tanto strani, ma prima che la falce di luna calante si levasse dall'orizzonte orientale, ero sveglio in un bagno di sudore freddo e decisissimo a non addormentarmi più. Non me la sentivo di sopportare oltre le cose che avevo visto in sogno e al chiarore della luna mi resi conto che ero stato uno sciocco a viaggiare di giorno. Senza il calore e il riflesso accecante del sole, il viaggio mi avrebbe stancato molto di meno, anzi, ora mi sentivo pronto a compiere la scalata che al tramonto mi aveva trattenuto. Raccolsi il pacco delle provviste e mi incamminai verso il vertice dell'altura. Ho detto che l'assoluta monotonia della pianura era per me una fonte di terrore, ma credo di aver provato una paura anche più forte quando raggiunsi la vetta e guardai nell'incommensurabile gola o baratro che si stendeva dall'altro versante. Era così terribile che la luna ancora relativamente bassa nel cielo non riusciva a illuminarne il fondo. Mi parve d'essere sull'orlo del mondo e di guardare oltre il bordo in un abisso incommensurabile di notte e caos e nel terrore ebbe una strana reminiscenza del paradiso perduto, l'orrenda scalata di Satana negli sconosciuti regni delle tenebre. Man mano che la luna s'alzava nel cielo, mi resi conto che i fianchi della gola non erano perpendicolari come avevo immaginato, costoni e disporgenza improvvise offrivano un buon appiglio per la discesa e dopo un precipizio di qualche centiraio di metri il declivio si faceva graduale. Spinto da un impulso che non riesco ad analizzare, mi calai con difficoltà per il primo tratto e arrivai nel punto in cui la discesa si faceva più dolce. Poi guardai il baratro in cui la luce non era mai entrata. Improvvisamente la mia attenzione fu catturata da un grande e singolare oggetto che si trovava sul fianco opposto della gola, il quale si indalzava ripidamente a un centinaio di metri da me. Colpito dalla luna che ormai era sufficientemente alta, l'oggetto brillava di bianco. Che fosse soltanto un obelisco di pietra è un fatto come mi accertai presto, ma giunsi alla conclusione che la sua forma e la sua posizione non potevano essere opera della natura. Esaminandolo più da vicino provai sensazioni che non è facile descrivere, perché nonostante la sua immensa grandezza e la sua collocazione in un baratro che l'oceano aveva sommerso fin dall'alba del mondo, dava la sensazione di essere stato costruito e forse adorato da creature intelligenti. Stupito e terrorizzato, ma non privo di un pizzico di sultanza scientifica e archeologica, decisi di esaminare più attentamente l'ambiente in cui mi trovavo. La luna, ora vicina allo zenith, splendeva con fantastica chiarezza sui gradini giganteschi che sprofondavano nel burrone e mi permise di scoprire che sul fondo c'era un corso d'acqua. Il torrente si perdeva verso sbocchi invisibili in entrambe le direzioni, ma mentre ero sul declivio mi lambiva quasi i piedi. Al di là del baratro gli spruzzi raggiungevano la base, del monolito ciclopico, sulla cui superficie distinguevo sia iscrizioni che rozze scultura. La scrittura si basava su un sistema di geroglifici a me sconosciuto e diverso da tutti quelli che avevo visto nei libri. Consisteva per lo più di simboli acquatici stilizzati, polipi, crostacei, molluschi, balene e simili. Alcuni ideogrammi riproducevano animali marini sconosciuti al mondo moderno, ma le cui forme decomposte avevo visto sulla pianura. Furono le sculture comunque a impressionarmi di più. Ben visibili per la loro mole ciclopica, anche al di qua dell'abisso formavano una sequenza di basso rilievi il cui tema avrebbe fatto invidia a un dorè. Credo che nelle intenzioni degli scultori le figure dovessero rappresentare uomini, o almeno una specie particolare di uomini, che tuttavia nuotavano come pesci nelle profondità di grotte sottomarine e pregavano davanti a un altare di pietra pure sommerso. Non oso descrivere nei particolari i loro corpi, i loro volti, perché il semplice ricordo mi fa star male. Grotteschi, oltre l'immaginazione di un po' o di un Wolverlitton. Nell'insieme erano maledettamente umani, ma avevano mani e piedi palmati, labbra enormi e mollicce, occhi vitri e sporgenti, e altri tratti ancora più spiacevoli. Cosa il quanto strana, sembravano sproporzionati rispetto allo sfondo. Una delle creature era rappresentata nell'atto di uccidere una balena che era poco più grande di lei. Fu colpito, come ho detto, dalle loro dimensioni e dall'aspetto grottesco, ma un attimo dopo decisi che doveva trattarsi semplicemente degli dei fantastici di una primitiva popolazione di pescatori o marinai. Una popolazione, peraltro, di cui discendenti erano morti milioni d'anni prima, che nascesse l'antenato dell'uomo di Neandertal o di Pelldown. Intimorito dalle prospettive che si aprivano su un passato inconcepibile anche per l'antropologo più fantasioso, continuai a rimuginare sotto la luna che gettava strani riflessi nel canale ai miei piedi. Poi all'improvviso lo vidi. L'essere affiorò dall'acqua nera con un solo risucchio. Vasto, ciclopico e disgustoso sfrecciò verso l'obelisco come un meraviglioso mostro d'incubo. Poi abbracciò la stele con le enormi braccia scagliose e piegò la testa, emettendo una serie di suoni misurati. Credo d'essere impazzito, allora. Della mia frenetica risalita sul pendio della gola e il fianco dell'altura ricordo ben poco, come pure del viaggio di ritorno alla barca. Credo di aver cantato a squarciagola e di aver riso come un pazzo quando non riuscivo a cantare. Ho confusi ricordi di un violento temporale scoppiato poco dopo aver raggiunto la barca. Comunque so di aver sentito scoppi di tuono e altri boati che la natura emette quando è nella sua fase più violenta. Quando emersi dalle ombre ero in un ospedale a San Francisco, dove mi aveva lasciato il comandante della nave americana che mi aveva raccolto in mezzo all'oceano a bordo della mia barca. In delirio avevo raccontato quasi tutto ciò che avevo visto, ma alle mie parole era stata prestata scarsa attenzione. I miei salvatori non erano al corrente di fenomeni geologici o immersioni di terre nel Pacifico e io non ritengo necessario insistere su una storia che non avrebbero potuto credere. Una volta sola ho cercato un etnologo, un famoso scienziato, divertendolo con le mie strane domande sull'antica leggenda filistea di Dagon, il dio pesce. Poi resumi conto che era legato a punti di vista quanto mai convenzionali. Ho lasciato perdere. È di notte, specialmente quando la luna è bianca e calante, che lo rivedo. Ho tentato la morfina, ma la droga mi ha dato una liberazione solo temporanea e in compenso mi ha fatto schiavo. Dopo aver scritto questo resoconto, che costituirà lo spasso dei miei simili, sento che è ora di finirla. Pesso mi chiedo se tutta l'avventura non possa essere stata un'allucinazione, un attacco di febbre sopravvenuto quando, in realtà, me ne stavo sul fondo della barca e deliravo nel sole, dopo la fuga dall'unità tedesca. Questo mi domando, ma ogni volta in risposta vedo una scena raccapricciante e viva come non mai. Non posso pensare al mare profondo senza rabbrividire all'idea degli esseri che forse, in questo stesso momento, si trascinano e guizzano sul fondo melmoso, intenti nell'adorazione degli antichi idoli di pietra e nell'arte di scolpire le loro detestabili fisionomie su obelischi sommersi di granito. Sogno il giorno in cui usciranno dai frutti e stringeranno negli artigli immensi i resti dell'umanità insignificante, logorata dalle guerre, il giorno in cui le teste sprofonderanno e il fondo oscuro dell'oceano salirà in superficie, nel pandemonio universale. La fine è vicina, sento un rumore alla porta, come se un immenso corpo vicido vi premesse contro. Non mi troverà. Dio, quella mano, la finestra, la finestra. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.